Buon pomeriggio a tutti, grazie prima di tutto al moderatore per la parola ma soprattutto a Don Carmine per avermi chiesto questa riflessione che mi ha stimolato certamente a percorre accanto alla storia della pastora della salute che abbiamo apprezzato questo tipo di ricostruzione, questo percorso descritto, certamente mi ha aiutato anche a riflettere su come è evoluta la sanità in questi 25 anni. Allora in realtà la mia relazione la prossima mezz'ora cercherò con voi, fondamentalmente ho immaginato un percorso da fare assieme a voi di 4 capitoli, un primo capitolo è fondamentalmente una ricostruzione vera e propria per tappe fondamentali, per tappe principali di come è evoluta sostanzialmente la sanità in questi 25 anni. Un secondo capitolo sarà dedicato al fatto che cosa abbiamo acquisito, alcuni elementi importanti che oggi abbiamo nel nostro paese che caratterizzano la salute e la sanità. Un terzo capitolo è alcune criticità, io le ho volute mettere in positivo, elementi da migliorare, per non piangerci addosso ma per entrare proprio nello spirito futuro di azioni, di aree critiche che dobbiamo cercare di implementare e migliorare. E infine alcune prospettive dove esprimerò in qualche modo la mia sensibilità e che spero possa essere anche condivisa da tutti voi. Allora il primo dato è 25 anni fa era il 1992. Il 1992 nella storia della sanità italiana, in particolare della sanità pubblica, è ricordato come l'anno in cui è stata introdotta, quella che oggi viene chiamata l'aziendalizzazione. È fondamentalmente un periodo nel quale dopo un periodo di gestione delle USL, cosiddette unità sanitarie locali, che erano fondamentalmente gestite dall'autorità locale, cioè delle conferenze dei sindaci, quelle che oggi chiamiamo conferenze dei sindaci, si decide che in realtà quel meccanismo non funziona molto bene, c'è bisogno di introdurre degli elementi di innovazione, degli elementi di managerialità e si definiscono e si disegnano quelle che oggi chiamiamo aziende sanitarie locali. Nascono in questo momento, poi il tempo di applicazione è molto lungo come vedremo, ma partono con questa normativa e le successive. C'è un secondo problema di tempo, io ho provato a distinguere tre grandi fasce di tempo. La prima è gli anni 90, una seconda fino al 2008, cioè fino alla crisi, dalla crisi in poi. Quindi cercherò di costruire questa prima parte su questi tre passaggi. Il secondo elemento alla fine degli anni 90, ancora una volta questo elemento mostra delle criticità e il paese migra verso una forma, quella che viene chiamata la devolution, quindi l'importanza delle regioni e in qualche modo l'assegnazione alle regioni del servizio sanitario nazionale, adesso lo vedremo. Che cosa dice fondamentalmente, vado per non entrerlo in tutti i dettagli, ma che cosa diceva la 502? Introduceva molti principi che tuttora sono presenti, anche se poi sono stati declinati molti anni dopo. La prima è l'aziendalizzazione, la seconda i livelli, allora si chiamavano uniformi essenziali di assistenza, oggi li chiamiamo lea, ma al principio in nu c'era quello sostanzialmente. L'altro passaggio è il ruolo delle regioni nella gestione del servizio sanitario nazionale, il finanziamento. Cambia anche la contabilità. Si introduce, la contabilità analitica, si introduce una serie di strumenti che erano totalmente sconosciuti al momento alle unità sanitarie locali. L'integrazione sociosanitaria viene declinata, viene descritta, ma poi in realtà vedremo, viene declinata operativamente solo in alcune regioni. Questo tuttora è uno dei temi, lo ritroveremo come sfida finale. La dipartimentalizzazione, cioè i meccanismi organizzativi interni, cioè di norma le aziende sono organizzate in dipartimenti, i contratti di lavoro del personale. Cambia concretamente la contrattualistica e anche le forme premiali. Il ruolo degli utenti. Adesso gli ultimi tre passaggi sono molto importanti, perché il ruolo degli utenti comincia a diventare importante. Si declina nel 92 il fatto che, oggi lo chiamiamo il paziente sta al centro, ma al tempo si chiamava ruolo dell'utente, l'utente comincia a un percorso che lo vedrà, e lo vedrà sempre anche in futuro, sempre più rilevanti. Il tema della qualità, il concetto di accreditamento viene declinato istituzionalmente in questo momento, anche se poi troverà declinazione concreta soltanto dieci anni dopo, e la selezione degli erogatori, scusate, la qualità quindi di identificare degli indicatori, degli indicatori che poi vedremo oggi sono rutinari. Il piano nazionale esiti in fondo è figlio di questo tipo di approccio. E infine la selezione degli erogatori. L'accreditamento, cominciare a definire degli standard minimi per poter garantire un minimo di qualità. Ultimo, ma non ultimo, la formazione del personale. Cioè si riconosce il fatto che il personale sanitario deve, una volta che ha acquisito i titoli e l'abilitazione per esercitare la propria professione, deve continuamente dimostrare e aggiornarsi competente nello settore specifico in cui è chiamato. L'altro passaggio importante è quello della 229, fine anni 90, e vi mostro l'articolo 1 come è cambiato. Questa era la 1833. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, eccetera, eccetera. Nella 229, quale complesso delle funzioni dei servizi regionali. Qui parte un passaggio importante che poi vedremo in questi anni, in realtà non sempre ha portato a miglioramenti in termini di riduzione dei gap che esistevano tra regioni. Ma questo è lo snodo importante, è una scelta del paese, la scelta della devolution, da quel momento in poi la sanità si regionalizza e poi dargli in ascienna tutti gli elementi che vedremo nel decennio successivo con i piani di rientro e tutte le altre cose di cui poi parleremo. Quindi è un passaggio importante, quello è un elemento importante. Che cosa avviene nella società? Avviene questo sostanzialmente, si rallenta la crescita demografica, passiamo da 56 milioni, rimaniamo tali sostanzialmente nel decennio, comincia a crescere la quantità di immigrati, superiamo un milione, a fine decennio abbiamo oltre un milione di immigrati. Oggi siamo a 6, vedremo però, o quasi 6, però in realtà lì c'è il primo break, come vedete. Dal 91 praticamente si quadruplicano nell'arco di un decennio il numero di immigrati che entrano in Italia. Cambia in qualche modo la struttura del nostro paese, comincia a emergere il problema dell'anzianità, poi saranno i baby boomers, la mia generazione che man mano che avanza, che creerà oggi uno dei problemi che abbiamo da affrontare, l'altra cosa si comincia a diffondere rapidamente tutta una serie di tecnologie che sono presenti nelle nostre famiglie. Che cosa avviene ancora? Avviene un altro passaggio culturale importante. Negli anni dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra, fino al 2000 avevano uno scenario di positivismo, tant'è che il programma dell'OMS ad Almata nel 1978 definì salute per tutti negli anni 2000, nell'anno 2000. Voleva dire abbiamo la speranza di radicare molte malattie per fine secolo. Man mano che ci avviciniamo a fine secolo, e l'HIV è stata l'epidemia di AIDS, poi è stata quella che ha fatto crollare definitivamente questa certezza, ci si accorge che questo non è più vero, che anche la tubercolosi che sembrava stesse scomparendo negli anni 90 riemerge in maniera importante. E quindi si comincia a modificare il contesto. Oggi il sistema è salute per tutti nelle politiche per il XXI secolo. C'è un'area tendenziale, certamente non c'è più l'illusione che avremo una deadline, una data, nella quale riusciremo a radicare troppe malattie. Provate a pensare alla stessa poliomielite, siamo lì lì, siamo lì lì, ma le stragi, le guerre nell'Afghanistan e così, o nel Centrafrica, nell'Africa subsahariana, impediscono di fatto, pur con sforzi notevolissimi in termini di risorse umane e di risorse economici, di eradicare una malattia che è eradicabile, come la poliomielite. Cresce e partono gli smartphone. C'è il primo prototipo, ce l'ho cercato su internet, questo è il primo prototipo emanato, non c'è ancora l'Apple, se volete, non c'è ancora l'iPhone, ma comincia a cambiare completamente la modalità con cui comunichiamo. Partono nuovi farmaci, nuovi vaccini, anche questo diventa molto importante. inizia la mappatura del genoma umano, non è che verrà conquistata ai primi del 2000. Sostanzialmente gli italiani cominciano a guardarsi intorno, sì la medicina normale è importante, scientifica, ma quella, chiamiamola così, non convenzionale, comincia ad avere un suo ruolo. Così come comincia a crescere, in maniera importante, la quota che gli italiani, gli economisti dicono out of pocket, mettono di tasca loro per la sanità. Cosa avviene poi sostanzialmente nel decennio successiva? Nel 2001 si fa il primo decreto sui LEA, è di qualche settimana fa l'ultimo decreto, ma il primo decreto strutturato è il 2001. Quindi provate a pensare, 92 l'UEA, 2001, tempo, questo è uno dei punti critici che il nostro Paese dovrà affrontare anche nel futuro. Si cominciano a fare i primi decreti sull'integrazione sociosanitaria, risalgono al 2000-2001. Si cominciano però nel 2004 i piani di rientro, il sistema diventa non sostenibile, la regionalizzazione comincia a avere spese fuori controllo e quindi si cominciano a monitorare determinate regioni perché la quantità di risorse utilizzate eccede largamente quelle disponibili e si cominciano a mettere in piedi i sistemi di valutazione. Nascono il tema delle linee guida, la formazione continua comincia a essere declinata, guardate i tempi, declinata nel 1992, si comincia a strutturare qualche anno dopo, diciamo così, e sostanzialmente parte il concetto della sicurezza delle cure, qualcosa che nasce con il nuovo secolo. Il tema dell'errore in medicina fino al 2000 o fino al 1999 quando viene emanato un documento, viene pubblicato un documento negli Stati Uniti da un'istituzione governativa sulla sicurezza delle cure, fino a quella data lì in realtà era oggetto di studio di piccoli gruppi di ricerca. Da quel momento diventa uno dei elementi caratterizzanti della sicurezza ad oggi. Ma succedono anche altre cose importanti che ve le cito perché poi impatteranno nello scenario. Uno, si introduce il numero chiuso a medicina. Prima era aperto, oggi ci troveremo, conosciamo con scenari dove verosimilmente dopo il 2020 dovremo importare medici o comunque avremo dei problemi nelle risorse umane. Si introcambiano i corsi di laurea, si fa il famoso 3 più 2 che tutti conoscete, il che vuol dire riconoscimento come laurea anche delle scienze infermieristiche, tanto per dare un'idea, ma soprattutto, proprio per questo 3 più 2, quello che avviene nel 2005. C'è una direttiva europea importantissima, il mutuo riconoscimento dei titoli di studio. Questa direttiva apre il mercato del lavoro per il personale sanitario in Europa. Per capirci è quello che poi dà adito al fatto che mille medici italiani vanno a lavorare all'estero ogni anno o qualcosa dei giovani medici, qualcosa del genere. Ma anche quello che ci ha consentito, per esempio nei momenti di carenza delle infermiere, di importare infermiere dalla Polonia, dalla Romania e dall'ombogheria per coprire i turni che non riuscivamo a coprire. Quindi questa normativa di fatto nel 2005 apre un mercato che è quello dell'Unione Europea. Anche questo è un passaggio importante. Cosa succede in questo periodo? Cresce la popolazione. Cresce ma perché? Perché in realtà in un decennio da un milione e tre diventiamo tre milioni e sei gli immigrati. Tre volte tanto. Comincia a crescere, comincia a diventare il 5% della popolazione italiana. Cominciano ovviamente gli anziani, crescono ancora e ovviamente si sposta all'occupazione. Perdiamo il manifatturiero e andiamo nei servizi. Anche questo cambia in qualche modo la conformazione. Poi questo porterà tutta una serie di tipologie di contratti ovviamente insieme a questo. Che cosa succede? Cambia ovviamente l'equilibrio decisionale nel sistema sanitario. Lo snodo chiave è la conferenza Stato-Regioni. Ovvero sia il luogo dove i governatori delle regioni insieme ai ministri dei vari di Casteri decidono per le parti devolute, la sanità è una di quelle, decidono che cosa fare. Tant'è che voi avrete visto quando si parla dei LEA vengono approvati solo quando c'è un adeguato finanziamento. Se no non vengono approvati. Il ministero propone ma è quel tavolo che decide che può rendere applicativo. È uno snodo chiave che tuttora persiste. Ovviamente c'è un'attenzione al federalismo che ha un gradiente nazionale, questo è quello che veniva immaginato. A quel punto qualità e sicurezza diventano strumenti sempre più fondamentali e misurabili e sostanzialmente quello che cambia è che le persone cominciano a interessarsi indipendentemente dalla fonte ufficiale che può essere il medico o l'infermiere sulla loro salute e sui sistemi informativi. Cosa succede? L'altra cosa importante ve lo cito perché è importante in questo periodo la copertura dei tassi delle vaccinazioni disponibili cresce. Raggiungiamo quasi il 95% che per chi non è tecnico è la soglia importante per fare in modo che non circolino poi le infezioni ovvero se arriva una persona infetta nella comunità non trova un numero sufficiente di persone che può contare la malattia per farla circolare. quindi il fatto che il 95% delle persone siano coperte vuol dire che tutelano anche i 5 non coperti per altri problemi sono tutelati rispetto al contrario della malattia. Che cosa succede ancora? Poco mesi prima della crisi viene firmata questo accordo che è nella regione europea dell'OMS regione europea per capire comprendere la Russia e Israele non è l'Unione Europea è un po' più larga ma quello che è importante di questa carta di Tallin che poi vedremo adesso viene ripresa superata la dieci anni dopo viene ripresa è quello che si associano due concetti salute e benessere salute e benessere non sono scendibili se vuoi fare crescere il benessere di una comunità devi farne crescere la salute e viceversa l'altro passaggio importante che vi faccio notare i sistemi questi l'ha firmato i ministri della salute di allora i sistemi sanitari devono mostrare le loro performance è chiaro che questo meccanismo ha tenuto conto negli anni successivi di questo perché l'anno dopo è successa la crisi e quindi c'è un drop pazzesco negli investimenti vedete che c'è una curva un po' più ritardata per quanto riguarda la spesa pubblica che arriva un po' dopo ma poi vedete che ovviamente impatta e vedete che nel 2009 la spesa sanitaria degli italiani decresce tremendamente poi risale nonostante quella pubblica rimane questo è un po' l'andamento questo cambia ovviamente lo scenario ma adesso viene ripreso che cosa avviene in questi anni l'Unione Europea altro passaggio importante interviene pesantemente nel sistema comincia a dare delle regole questa è la prima regola 2009 gli stati devono garantire la sicurezza e la qualità delle cure in tutti i paesi a tutti i cittadini e l'Unione Europea monitorizza l'andamento degli stati su questo argomento secondo passaggio importante cosa fa la cosiddetta direttiva cross board della mobilità dei pazienti cioè introduce il concetto che i pazienti possono liberamente tra virgolette poi non mettiamo nei dettagli muoversi in quanto cittadini tra i sistemi sanitari dell'Europa poi tutto questo porta due elementi uno economico perché c'è grande divario in termini di valore economico investito sulla salute nei diversi paesi ma l'altro criterio che tuttora è presente chiede alle varie istituzioni al gemelli piuttosto che all'ospedale in cui lavoro io di dichiarare le loro performance i loro indicatori di qualità pubblicamente per poter essere riconosciuti come luoghi dove i cittadini europei possono girare possono rivolgersi questo è un altro passaggio importantissimo che si declinerà anche in futuro che cosa succede? succede nel frattempo che vengono fatti alcuni elementi tipo gli ospedali psichiatri giudiziali che però guardate la data e guardate si stanno chiudendo ancora qualcuno insomma i tempi di applicazione in Italia sono piuttosto lunghi si decidono una serie di dati quantitativi il famoso decreto Balduzzi anche lui molto macchinoso ma poi alla fine decretato i nuovi LEA che sono stati fatti ma è l'ultima legge se volete la legge Gelli sulla sicurezza delle cure che è un altro aspetto importante che adesso dovrà essere declinato ma su cui non entro nel dettaglio che cosa si fa nel frattempo? si fanno molti principiani il piano della prevenzione il piano del vaccinale il piano della salute mentale il piano della cronicità ne cito alcuni sicuramente ne dimentico altri ma l'obiettivo non era dire abbiamo fatto una serie di documenti che cosa è avvenuto nel frattempo? avviene questo avviene che l'Italia si colloca un po' sotto la media dell'Unione Europea per quota pro capite per spesa sanitaria di cui fondamentalmente un 20% poi lo approfondirà la professoressa Smerilli viene dedicato ovviamente a out of pocket ma questa è la finanziaria come vedete rimane fondamentalmente sul 6 6,7 6,8 questa è la spesa pubblica 6,7% del PIL e le proiezioni non è che la proiezione a 2020 questo è il documento di quest'anno crescerà molto sostanzialmente anzi percentualmente come vedete tende a decrescere da 6,8% passa a 6,4% l'altra cosa importante come vedete cresce relativamente poco questa è l'Italia mentre decresce significativamente invece la quota pro capite della spesa pubblica ovvero sia di fatto non tiene conto dell'inflazione ha una riduzione netta del potere d'acquisto del sistema cosa succede nel frattempo? beh il numero di abitanti cambia relativamente poco gli anziani crescono ci sono abbiamo raggiunto i 5 milioni di stranieri ufficiali ovviamente riconosciuti quindi cominciamo a avere abbiamo allo stesso tempo raggiunto anziani stranieri il record negativo delle nascite siamo un paese in decrescita netta dal punto di vista ancora abbiamo gli italiani più giovani sono più istruiti ma poi vedremo che è un problema ma sostanzialmente il reddito delle famiglie si riduce circa il 4% il potere d'acquisto medio in questi 8-10 anni viene perso questo ha delle conseguenze la povertà aumenta abbiamo una quota che viaggia intorno a 29 1 su 3 si avvicina alla povertà e l'altra cosa importante come vedete questo è importante è legata a varie cose deprivazione materiale che è importante bassa intensità lavorativa o vorrei dire precariato per cui perdi il lavoro rischi di andare nella povertà materiale perché è troppo precario e l'altra cosa il rischio di povertà è legato al fatto che sei veramente borderline sono i dati in cui ci dicono che circa in alcune zone del paese il 30% della popolazione non riesce a mangiare a fare due pasti proteici a settimana vuol dire mangiare bistecche vuol dire che se un anziano non fa questo se cade aumenta significativamente la probabilità di fare una lesione da decubito una volta che venga ricoverato nell'arco di 24-48 ore con tutto quello che ne consegue cambiamenti cosa succede cresce sostanzialmente tutto il sistema diciamo informazione online comincia non credo più necessariamente al medico guardo su internet la diagnosi poi chi lavora in oncologia sa che questo è rutinario che la gente ti arrivi con la ricerca bibliografica nella cartellina ancora la cosa importante la gente percepisce male il proprio sistema parte il meccanismo fare di più non vuol dire fare meglio il famoso choosing wisely per chi vuol sentire questo tipo di argomento e soprattutto guardate il dato cominciamo a avere corti ultracentenari 17.000 ok in Italia 17.000 ma 700 o più mila ultranovantenni e sono tutti non è che sono tutti proprio in gran forma si crea un problema importante e fate il pandanno ovviamente con quelle delle date crescite delle nascite questo è un altro passaggio importante che poi riprenderò questo è il tema degli consumi mediatici e vedete che sostanzialmente tutti hanno internet 3 su 4 considerato gli ultranovantenni e centenari che probabilmente immagino non saranno tutti praticamente abilissimi di fatto ci troviamo ad avere questo meccanismo ma in realtà vedete gli smartphone 65% questo apre uno scenario al futuro della sanità il monitoraggio passerà anche attraverso qui passerà anche attraverso qui anche la vicinanza l'ultimo passaggio con questo meccanismo si associa il fatto che la gente comincia a cadere a meno ai vaccini elementi consolidati vado avanti abbiamo un sacco di dati ne ho citati alcuni se qualcuno l'ho dimenticato e qualcuno di voi è protagonista chiedo scusa a priori lo inserisco sicuramente se me l'ho fatto avere ma abbiamo siamo pieni di dati di monitoraggi 92 indicatori adesso ne abbiamo tanto sono tutti scaricabili da internet tutti aperti non c'è nessuno basta avere la pazienza di scaricarli e leggerli ma sono spesso letture gradevoli dal dopocena o prima di andare a dormire ma certamente sono aspetti importanti altra cosa il sistema tiene questo è l'ultimo dato della Bloomberg che è un'agenzia di rating internazionale pone comunque il sistema sanitario italiano tra i primi lasciate pare che sia primo, secondo, terzo dipende un po' da graduatori ma siamo sempre nei primi cinque a seconda degli indicatori che usiamo comunque la qualità della vita tiene ancora abbiamo una serie di indicatori questo è si vede poco ma vado velocemente ve lo descrivo osserva salute anche questo lo potete che è curato operato dall'università cattolica dal gemelli dal mio amico Ricciardi in realtà vedete che l'Italia è sempre nell'oxe o terza o quarta ottava o quarto qui siamo speranza di vita siamo un po' più meno brillanti nella mortalità per malattie cardiovascolari ma se prendiamo fattori di rischio per esempio non siamo bene siamo 24 esimi su 34 per gli fumatori adulti oppure siamo come vedete 22 esimi per l'accarico economico a carico delle famiglie out of pocket spesa per le famiglie che si carichi siamo 22 esimi su 34 paesi oxe parliamo dei paesi sviluppati ovviamente non parliamo dei paesi in via di sviluppo e infine la qualità delle cure come vedete però ricoveri ospedalieri per asma siamo secondi quindi siamo bene il diabete un po' meno il mio cardio però siamo quinti sostanzialmente abbiamo buone performa nonostante tutti i malanni siamo in grado di far fronte abbiamo avuto epidemie di vario tipo fortunatamente l'Italia è riuscita a gestirle anche questo è importante l'epidemia globale di cui avrete sentito parlare abbiamo delle buone pratiche se andate sul sito dell'agina ci sono molte esperienze concrete di esperienze fatte localmente che ci spiegano come affrontare una maggior sicurezza e qualità delle cure e molte di queste vanno in questo sito europeo che sta crescendo ancora una volta importanza dell'unione europea su questo abbiamo sostanzialmente le risorse umane in sanità sono un fattore importante questo è il dato italiano e vi mostra sostanzialmente quelle in azzurro sono le opportunità di lavoro nell'ambito sanitario quelle in grigetto rigato per chi vede più da vicino sono negli altri settori e vedete che in realtà tranne poche eccezioni questo qui per esempio è Lussemburgo ma evidentemente fa poco testo viste le dimensioni in quasi tutti i settori vedete la sanità è quella che offre maggiore opportunità di lavoro rispetto a tutti gli altri settori il futuro avremo l'unione europea stima quasi 10 milioni di posti di lavoro nei prossimi 3-4 anni nel settore sanità non sono tutti i medici infermieri sono anche le badanti sono anche educatori professionali sono anche figure care givers che supportano ma parliamo di una quantità di opportunità di lavoro enorme la sanità diventerà un grande fattore di occupazione e con tutto quello che ne consegue in termini di qualità elementi da migliorare beh viviamo bene ma quando andiamo a vedere l'Atlante sulla qualità della vita che tiene conto anche della corruzione della generosità del suo supporto sociale in realtà scaliamo un po' diventiamo 48esimi dopo di noi c'è la Russia prima c'è l'Uzbekistan la Polonia dopo c'è il Belize insomma non è che siamo in grandissima compagnia onestamente diciamo che abbiamo margini di miglioramento ok? dopodiché come andremo a spendere? beh la stima è nello scenario peggiore al 2060 10% del PIL nello scenario migliore circa il 9% del PIL comunque crescerà dovremo investirci di più con un trend che vedete quello rosso fino al 2040 e l'altro fino al 2060 abbiamo delle disequità questa è la mortalità evitabile l'abbiamo ridotta negli ultimi anni siamo scesi del 3% ma guardate la distanza tra le regioni diciamo chiamiamole del nord e le regioni del centro sud la mortalità evitabile c'è gente che muore un po' prima di quanto dovrebbe se avesse i servizi adeguati parliamo di vita e di morte non stiamo parlando di c'è un mal di pancia che dura un po' di più un po' di meno c'è la febbre che dura un po' di meno sto parlando di mortalità evitabile quindi quella mortalità che è legata alla qualità dei servizi questa è la situazione italiana abbiamo un gap dobbiamo ancora colmarlo abbiamo ovviamente degli anziani abbiamo anziani importanti abbiamo dei fenomeni che sfidano anche il mondo scientifico perché in realtà trattare un novantenne che ha 7-8 patologie e che come nella mia regione abbiamo il 15% prende più di 10 principi attivi con picchi di 21 principi attivi al giorno il che vuol dire tra le 30-35 pastiglie al giorno è una realtà che non funziona più non stiamo facendo salute spendiamo dei soldi perché comunque poi delle risorse se non volete parlare di soldi ma comunque non è che ammesso che alcuni di noi probabilmente lucidi riescano a prendere 35 pastiglie al giorno al momento giusto e al posto giusto e che non facciano confusione con tutte le scatolette che cambiano colore ogni volta che vai in farmacia ammesso e non concesso io penso che fallirei miseramente di fatto provate a pensare a un anziano che è una badante Moldava-Ucraina ma non perché Moldava-Ucraina perché certamente questa fa fatica anche a leggere l'italiano in realtà cosa succede che noi abbiamo un modello anche medico in cui diciamo a una patologia corrisponde un trattamento 6-5 patologie 1-1-1-1-1 è sommatorio in realtà la persona che ha 100 anni è probabilmente già una fortuna che stia lì e probabilmente dovremmo trovare non c'è la risposta è un ambito di ricerca dobbiamo trovare quel mix che consente alla persona di trovare il migliore equilibrio possibile che certamente non passa per 30 pastiglie al giorno alcune delle quali però sono vi faccio un esempio uno dà la spirinetta automaticamente mette l'inibitore di pompa il gastro protettore non serve le evidenze dicono che non serve ma è un automatismo se non lo prendi ti viene l'ansia non serve è qualcosa che facciamo nella nostra regione sto lanciando questo programma perché bisogna invertire proprio le tendenze le cose l'altra cosa importante è questa in Italia vi dicevo il 49% del personale medico ha più di 55 anni il che vuol dire che nei prossimi 10 anni andrà in pensione diciamo che il governo ci porterà fino a 70 perché poi non avrà le pensioni da pagare ma comunque noi nei prossimi anni avremo un problema di numeri di personale che non è compensato dai nuovi ingressi proprio per il numero chiuso dovremo cambiare i modelli questo non funziona se poi aggiungiamo quelli che migrano provate a pensare cosa sta succedendo l'altra cosa importante gli stessi personaggi di sanità non crede molto non è molto compliante il direttore generale immagino che avrà esperienze di questo tipo convincere non solo i medici i professionisti sanitari a seguire le raccomandazioni non è facile anche a vaccinarsi per l'influenza non è facile voi lo sapete meglio di me per certi aspetti quindi il tema della professionalità devo seguire alcune raccomandazioni non posso più lavorare da solo io ho sempre fatto così è un qualcosa che non funziona più va mediato con le evidenze altro passaggio è vero che siamo istruiti perché stanno crescendo vedete il divario con l'Europa si sta riducendo però questo è il dato di quanti sono i 25 e i 64 anni in Italia per regione che hanno solo la terza media abbiamo regioni in cui abbiamo più di metà cosa vuol dire questo? vuol dire che noi abbiamo una literacy bassa cioè facciamo fatica non solo a capire il contratto dell'assicurazione che indipendentemente la literacy è illegibile o incomprensibile a meno che tu non sia un economista o un esperto in assicurazioni ma anche il bugiardino o anche le prescrizioni mediche anche come comportarmi anche come prendere le pastiglie e questo si riflette vi ho citato questo fatto Don Carmine mi considera questo salto 30 aprile 2017 Corriere della Sera esce fuori quello che oggi viene classificato come post verità l'avete sentito parlare per Trump per mille altre cose però questa è la definizione che trovate nell'Oxford Dictionary ma la cosa importante guardate il 20% di italiani intervistati in questo studio dell'SVG gli sbarchi sulla Lula non sono mai avvenuti e le prove sono state create dalla NASA il 24-23% le scie di vapore lasciate dagli aerei sono in realtà agenti chimici spruzzati in un programma clandestino diretto contro le istituzioni ma guardate Stamina il metodo Stamina per la cura delle malattie è stato combattuto funziona ma è colpa delle multinazionali se non funziona 40% una parte elevata no è controllata una parte rilevante delle nostre vite è controllata dai poteri forti quasi il 45% non trascuriamo questo passaggio perché questo si traduce laddove cominciamo a dire io non credo nelle vaccinazioni e infatti lo vedete i vaccini logano il sistema immunitario in realtà siamo in un contesto dove cresce la cultura ma abbiamo almeno un terzo della popolazione che crede tra virgolette chiamiamoli complotti chiamate cosa ma come crede a quei complotti può credere anche ad altre diciamo che tra virgolette può essere credulona forse un brutto termine ma è giusto per capirci come percepiamo il sistema questo è un altro interessante Eurobarometer agenzia di studio dell'Unione Europea dice quella probabilità che un paziente subisca un danno negli ospedali del tuo paese voi vedete che siamo pessimisti sicuramente se vai in ospedale ti succede qualcosa seconda domanda nell'ultimo anno tu o qualche tuo parente ha avuto un danno andando in ospedale no ok è il nostro percepito non è la realtà la realtà è che io non ho avuto i danni o non li riferisco però la mia percezione è che qui va tutto male anche questo è un altro fattore importante ed è un ambito d'azione per il nostro paese perché abbiamo un pessimismo cosmico sostanzialmente sul fatto che le nostre strutture non funzionano salvo poi vedere che siamo nei primi posti a livello nazionale è un dato di ottimismo altro messaggio importante lo spreco studio uscito nel gennaio 2017 OXE quindi dato stima 20-30% delle risorse investite in sanità possono essere risparmiate 30% il nostro bilancio è 117 114 15 milioni di euro voi capite che bene perché facciamo overuse troppi esami o perché le ripetiamo o perché paghiamo un prezzo eccessivo per alcuni beni o perché in realtà abbiamo delle amministrazioni non efficaci non entro nel dettaglio ma è un lavoro molto interessante stimato si può risparmiare dal 20 al 30% provate a pensare quanti miliardi di euro disponibili per bisogni che oggi non trovano risposta l'altra cosa è il tempo noi ci mettiamo vi ho citato questo decreto 2011 per dire la informatizzazione dematerializzazione siamo ancora in itinere è troppo lungo il tempo dobbiamo sveltire come paese perché in realtà non possiamo permetterci 20 anni prima di arrivare al cambiamento certo non avviene in un mese ma neanche in 20 anni rischi che quando arriva il cambiamento è già vecchio quindi è un tema istituzionale prospettive molto rapidamente primo dato che forse conoscete in pochi questo è il dato del PIL nell'Europa per regione non per paese e guardate un po' come è fatta l'Europa c'è un asse centrale che va dalla Lombardia arriva fino a scusate fino a Danuover con alcune zone la zona di Parigi la zona di Madrid la zona Cataluña l'Irlanda alcune parti dell'Irlanda i paesi nordici e guardate il rosso intenso sud agli estremi l'Italia è vero che noi ci diciamo qualche volta autoflagelliamo però in realtà siamo un paradigma dell'Europa siamo un paradigma dell'Europa è un problema che dobbiamo affrontare come Italia ma anche come Europa e in realtà l'altra cosa importante infatti l'Europa vedete sempre più entra queste sono le tematiche che non entro nel dettaglio che l'Unione Europea pone su questi temi ma vedete uso delle medicine sicurezza dei pazienti performa dei sistemi integrazione dell'assistenza mobilità sistemi informativi sono tutte tematiche in cui l'Unione Europea sta investendo milioni milioni di euro alcuni sono anche le nostre istituzioni che fanno parte di progetti in questo senso ma determineranno il nostro futuro quindi non solo l'Italia ma l'Italia dentro quel sistema l'altra cosa l'assistenza centrata sulle persone personalizzata coordinata mirata all'empowerment del paziente ma anche dignità compassione rispetto beh qui gioco in casa ci saranno credo tutto questo convegno ma è importante identifico la persona e questo anche grazie alla genomica la proteomica e altre cose profili personalizzati e sottopopolazioni altro passaggio il centro è la relazione il tema sanitario alla fine è la relazione tra due persone una persona che ha un bisogno e dei professionisti che con conscienza e coscienza cercano di rispondere al loro bisogno intorno a questo ci sono altre persone che aiutano che influenzano provate a pensare per esempio alle badanti o ai vicini di casa o ai familiari o altre cose così come ci sono i vari collaboratori ma la cosa importante allora questo vi mostro è un lavoro che stiamo facendo nella mia università in un master per l'integrazione tra cure sociali e sanitarie questa è la mappatura di un paesino di montagna si chiama Lauco nella Carnia di pochi abitanti e vedete che sostanzialmente i puntini rossi sono gli anziani soli e vedete che questa tesista ha fatto una funzione gramma chi va a portargli il pasto chi lo va a trovare chi va a vedere la mattina se si è svegliato una rete di relazioni che consente a quegli anziani di vivere lì questa è una scommessa e la scommessa per evitare che l'anziano poi vada in pronto soccorso che se vogliamo mettere in termini puramente di utilizzo è la scommessa di farlo vivere anche bene integrato dentro un sistema di comunità allora questa in realtà questa comunità influenza quella relazione perché questo anziano solo è fatto da mille relazioni di chi gli porta il pasto chi lo va a vedere eccetera eccetera ma è anche fatto da una prossimità legata agli strumenti tipo smartphone per cui da qui da Bologna posso guardare mia nonna via Skype vedere sullo smartphone avere sullo smartphone il segnale se sta bene o se cade oppure posso come succede a una mia collaboratrice che ha siccome la mamma anziana che rischia di cadere si è messa a una telecamera e mentre lavora a computer ha direttamente la visuale di cosa succede a casa e può allertare i vicini per ma se c'ha questa rete se no che allerta a fare chi se ha questa rete allora la comunità di prossimità è una delle scommesse sociali ma sociali e sanitarie solo questo ferma o può strutturare il sistema e sostanzialmente l'altra parte passa per la literacy che vuol dire del cittadino ma anche del professionista sanitario che deve come personalizza la cura deve personalizzare la comunicazione in funzione del livello di literacy che ha la persona e della comprensione che ha la persona di quanto viene detto questo vuol dire professionalità vado velocemente questo vuol dire anche buone pratiche non abbiamo la ricetta non abbiamo evidenze però abbiamo delle esperienze e fare queste pratiche che possono essere emergenti possono promettenti o fino ad arrivare alle migliori pratiche e condividerle diventa un elemento importante e questa è una delle strade e anche alcune pratiche che si fanno nelle nostre diocesi o che si fanno nelle nostre parrocchie sono estremamente importanti in quella logica che vi dicevo così come è importante avere chiaro che cosa vogliamo acquisire se abbiamo chiaro che cosa e abbiamo chiaro cosa sono gli sprechi il commissioning che vuol dire che cosa mi serve diventa importante così come diventa importante le modalità con cui io pago se io pago prestazioni otterrò prestazioni indipendentemente dalla salute è chiaro? le modalità di finanziamento dei servizi sono fondamentali per orientare l'organizzazione indipendentemente dal moto missionario altruistico anche da business se io ti pago in un certo modo tu mi produrrai un servizio che evidentemente rientra in quel modo ultimo passaggio macrosistema e microsistema devono essere coordinati e come vedete queste cose vanno insieme occorre un'azione capillare le comunità di prossimità dove strutture assemblee come questa hanno un ruolo fondamentale nel catalizzare queste realtà devono essere ovviamente binate da un livello macro che dà delle regole del gioco e che rende facilitante quel tipo di esperienza chiudo dicendo che vi ricordate salute per tutte negli anni 2000 questo è il nuovo goal che viene fatto dall'ONU lo sviluppo sostenibile per il 2000 il numero 3 è benessere e salute l'altra cosa importante mi piace ricordare questa l'accesso alla conoscenza ormai diventa il vero differenziale conoscere e saper utilizzare quella conoscenza è un elemento estremamente importante e infine vi mostro questo articolo uscito su BMJ di una insegnante di medicina interna americana che dice il potere di dire grazie che riporta la relazione con le persone quando io dico grazie il sistema si muove mi risponde e mi sorride ma a parte la gradevolezza del sorriso fa le cose non se ne frega perché ho detto grazie vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie grazie